buona mattina ciao amici ciao ciao amici come state buon dì buon dì vediamo un po' quante notiziette abbiamo stamattina ce n'è ce n'è ce n'è ce n'è che c'ho l'acquetta ma me la tengo per dopo per iniziare bene la giornata perché oggi ragazzi ne abbiamo e oggi si suda guarda quanti ne abbiamo abbiamo tu quanti ne hai moro quanti ne ho aperti o di quelli del signore degli anelli cinque li avrei aperti no del signore degli anelli ne avrò aperti forse tre queste quante sono non mi ricordo per quanti sono mica c'è scritto mi sa erano 30 34 presumo forse erano 36 in totale 36 mi sarà l'altro quelli forse erano vabbè sti canna trentina ce ne ho insomma eh io ne ho 20 qua cioè poi in realtà c'ho anche cioè di questi qua ancora mica lo finisco di qui erano 36 eh no io finito tu me mancano 24 pacchetti di one piece e poi basta quanti ne hai tu e non so perché su mystery box non sono pacchetti io ti sento bassissimo a te è uguale no no su bs sei così ieri ha aggiornato windows di merda no però è uguale io cioè a me sentite bene come voce giusto è uguale perché è uguale che non è uguale no metaforicamente si suda cioè effettivamente oggi si sta bene non c'è nessun cambiamento ce ne sono 30 in quel box del signore degli anelli quindi ne devi aprire 27 sì tecnicamente sono 30 beh comunque più dei miei magari partite prima voi due così dopo ma io penso ci metto poco eh penso 10 minuti lo faccio ti metto a 90 comunque ragazzi quest'anno per il momento nessun ragazzino ha le carte sono realmente tristi no eh Valerio neanche finte intanto sono tutte fake quelle che dici non lo so Crow io spero di trovare qualcosina di carino non dico la manga perché vabbè però magari io sono un po' in hype perché eh come fai a trovare la manga sono tre mystery box grandi e tre piccole ne ho aperta una piccola e ho trovato questa ieri giusto per vedere bella Pikachu quindi sono in hype vabbè Zoromang grazie Obscurian grazie mille bello amici mi raccomando rinnovate penso se ne intendono grazie Obscurian punto esclamativo offerta se volete se volete comprare anche voi questi boxettini tra l'altro ieri l'abbiamo fatto scoprire anche a Esprit adesso mi sa che gli svaliggerà il negozio tra lui e i suoi amici merdini però vabbè comunque prima di tutto la l'informazione quindi una bella sigla per il termogiornale rovinata rovinata Lorenzo Lorenzo hai distrutto i nostri sogni completamente distrutta la sigla però grazie perché ci hai dato i soldi complimenti un applauso bravo bravo devo controllare una cosa aspettate ragazzi velocemente oh no ma 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 bastardo chi va bene no allora è su Vinted no a un tizio gli avevo detto guarda siccome il mio locker forse è in ferie riesci a tenermi riesci a tenermi le due carte delle palle da 5 euro che dovevo prendere riesci a tenermele per domani perché su Vinted puoi mettere prenotato no ciao Marco Marco Francia ha fatto un cliente non c'è più nessuno ha detto e gli ho detto tienimi da parte queste due carte che poi le compro no appena il mio locker torna mi fa sì sì non c'è problema e le ha vendute magari uno gli ha offerto tanto magari di più ma sono delle carte delle palle sono veramente delle carte di merda le pagavo anche di più con 5 euro grazie Ivan vabbè fatti i suoi adesso le altre carte non gliele compro più perché c'è ancora le altre due nel set di nuovo no spero che abbiano sistemato stamattina dai allora però noi siamo delle persone che non ci interessano queste la gentaccia queste cose qua noi dobbiamo parlare di cose serie tipo il post non ho aperto le notizie di TG Com ragazzi godo è stata identificata la stanza vuota più misteriosa di internet stiamo parlando delle backroom certo hanno identificato dove cioè da dove arriva è una fotografia scattata in Wisconsin che ha catalizzato discussioni ispirato video podcast bla bla quelle per appunto i liminar spaces no Luke ha trasgredito una regola però dopo non è vero Lizer solo tu pensi che abbia trasgredito una regola come è una bugia ah ho capito allora ho già capito io sono il fan numero uno e va bene comunque se non deve metterle Luke è sbagliato eh vabbè quello lì cazzi dell'altro esaltà comunque boh e dov'è backroom stiga pensionato 68enne eletto sindaco a sua insaputa voleva aiutare il primo cittadino ma lo batte eh e mo come si risolve poi no mio cugino disse di no la gente voleva mio cugino era vice sindaco no la gente lo voleva sindaco lui ha detto no no non lo voglio fare e ha detto cioè non 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 si è fatto eleggere l'ha potuto fare poi era un comune più piccolo per carità però è un sindaco non voglio farlo ti devi candidare per fare eh no il fatto è che nel suo caso essendo vice in teoria tu dovresti passare tipo c'è questa cosa no essendo vice sindaco succede qualcosa al sindaco casini vari tu dovresti lui però lui ha detto che voleva fare no anche magari era il suo lavoro principale però tecnicamente non puoi candidarti come vice sindaco non dici di no scusa no non è che lui voleva aiutare il sindaco ma non voleva farlo lui in primis e quindi gli ha detto però la gente voleva lui perché era bravo ma lui ha detto no non voglio prendermi questa responsabilità però è riuscito a farlo quindi in qualche modo si può fare credo perché poi non era il suo lavoro principale cioè lui stava aiutando il comune perché è un comune piccolo però lui aveva un altro lavoro ha detto se mi metto anche a fare il sindaco non vivo più quindi non voleva farlo già stava aiutando il comune però da quello che so è riuscito a farlo perché non è mai diventato sindaco poi alla fine però per caso hai tolto l'autogain da discord non ho toccato nulla io ho perdo il pc stamattina non è che mi diverto ma sei bassissimo comunque quindi prova a controllare scusa perché secondo me ti hai tolto l'autogain per quello sei così basso quindi ti devo alzare in quel caso vabbè alzami vabbè dopo se mi sfondi le orecchie non ti alzo ma magari ti ha abbassato un po' 110 ma se se poi parti con il volume a cannone mi ammazzi dov'è l'opzione dell'autogain non c'è neanche come no controllo automatico del guadagno c'è è attivo ma non so comunque anche gli elefanti si chiamano per nome come gli umani lo studio su nature ma che cazzo stanno facendo questi giorni si chiamano come gli umani si chiamano Filippo Gianluca Paolo no perché altro no però erano sempre gli elefanti no erano le balene no erano le orche mi sa no le balene mi sembra non mi ricordo se era qualcuno nell'acqua però non era solo quella c'era anche un'altra notizia che facevano dei versi apposta le balene si riconoscevano tra di loro o addirittura avevano praticamente avevano decodificato una frase che aveva detto la balena una barca dicendo tipo aveva detto mi ricordo quella è la frase della balena però è una cosa del genere ma sono notizie tutte grazie Maxer comunque il reato di colpevolezza di 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 Luke era madonna di Trevignano Gesella Cardi è indagata per truffa insieme al marito Gianni e beh mi sembra anche un po' in ritardo donò 123.000 euro all'associazione è perché appunto c'è sto fedele che gli aveva dato 123.000 euro e stanno indagando perché comunque ha comunque preso una cifra del genere ma poi scusami il tizio ha denunciato la cosa c'è scritto Luigi Avella che è quello che ha fatto la donazione e ormai è un volto noto nelle vicende della fantomatica apparizione della lacrimazione quindi chi ha seguito il caso è un tizio famoso cioè del caso per essere pirla però dice che è stato lui a donare tra le altre cose le panche che c'erano nel campo per i fedeli la statua di San Michele Arcangelo che ancora non gli è stata restituita e della madonna in vetro resina che prima svettava sulla collina con vista panoramica sul lago di Bracciano e adesso credo poi è stata contestata come abusiva ah ok contestata come abusiva per la teca che la conteneva è stata rimossa perché inadatta essere sposta nelle intemperie e sostituita con un'altra si avevano messo la teca con la madonna in mezzo alla natura la pioggia il catrame e quindi gliel'hanno fatta togliere ma quindi scusami io non ho capito sto Luigi voleva i soldi indietro dopo la sua donazione o semplicemente è una persona che magari hanno definito che non è proprio a posto e quindi si sono approfittati di lui e quindi stanno indagando su Gisella non ho capito come si chiama Gisella si non c'è scritto effettivamente non ho capito qual è il fulcro perché se lui è indagata perché dovrebbe esatto e che lì voleva arrivare se è una donazione spontanea e alla fine c'ha ragione lei però se l'è indagata è perché è successo qualcosa lui rivuole i soldi forse vorrei vedere anche i 123.000 euro all'associazione vorrei vedere l'associazione quanto effettivamente è in regola e tutto quanto come associazione non lo so però c'è scritto che hanno attivato una squadra mista di due forze di polizia per approfondire la vicenda e ieri due investigatori no due gli investigatori hanno ascoltato Avella per più di tre ore Avella è quello della donazione forse perché vogliono sincerarsi che l'ha fatta cioè consapevole di averla fatta la donazione eccetera sì oggi a Cacona come si è messo non l'ho fatta ancora oggi no non è Avella Danger è Luigi Avella intanto passiamo alla prossima notizia genitori chiamano il figlio come un personaggio di una serie tv e le reazioni sono feroci abominevole Lucifer l'hanno chiamato come l'hanno chiamato sì Lucifer Ashley l'hanno chiamato il protagonista della serie il fascinoso protagonista della serie se magari se magari lo vogliono far battezzare poi non è certo non è allora hanno detto ma scusa c'è Gesù facciamo anche Lucifero hanno detto e quindi che nome è bello se ci pensi Lucifero io per una persona né Lucifero né Gesù sinceramente mi piacciono molto però però è che in Spagna Gesù è proprio tipo Giuseppe da noi quindi va bene cioè va bene è un nome loro va bene a parte che cioè a me fa ridere che la notizia l'hanno chiamato come il personaggio di una serie tv cioè Lucifero è il personaggio ma perché mi sa che i genitori non pensavano a Lucifero Lucifero ma proprio a quel Lucifer della serie tv sì ho capito che è comunque Lucifero nel senso e che chiaramente la reference non è quello della Bibbia quindi non ovviamente l'articolo l'ha dovuto citare effettivamente volevano chiamarlo proprio come la serie tv vabbè ma alla fine se uno sa che è per la serie tv che gli frega cioè è vero capito comunque Lucifero in realtà appunto significa portatore di luce sì perché era un angelo però dopo è diventato cioè nella trama dopo è diventato ill quindi letteralmente ill considerarlo la prima parte e magari siano così no ma noi intendevamo pre pre change precaduta cioè poi immaginati questo qui è da grande che gli dico ma ti chiedono di Lucifero come il diavolo no 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 era prima del cambio è come un personaggio di una serie tv non so non il diavolo ah era pre time skipper che ma non è una tosse questa scusate va bene alle casse automatiche del supermercato le telecamere possono riprendere le parti intime la video denuncia su tiktok perché da sotto sono le casse sono posizionate in modo ambiguo e sostiene che siano in grado di catturare angolazioni inappropriate quindi da sotto sì ma c'è sotto quello che hanno messo non c'entra una sega c'è un video del davanti del supermercato del parcheggio dove c'è gente in mutande che ma quello che fa robe ma non c'entra niente grazie mille a parte del fatto che di solito sti video sono a caso questo stranamente è di una telecamera quindi o è stata una incredibile coincidenza di un altro articolo oppure vabbè comunque sì c'è scritto che la tiktoker è convinta di averle viste di queste sue affermazioni e deve trovare delle prove dei fornire delle prove solito si fa ha scritto metterò le cose in chiaro la prossima volta che andrò vabbè non vedo perché dovrebbe dire una scemenza e mettersi contro anche la polizia i giudici e cose avrà visto una telecamera e l'ha fatto notare poi il fatto che fosse una tiktoker su tiktoker ti fa istantaneamente perdere purtroppo al giorno d'oggi purtroppo sì però effettivamente magari non è una tiktoker l'ha voluto mettere su tiktoker per far girare il più possibile il lavoro il fatto è che ha scritto lavoro in questo supermercato non abbiamo telecam ah no qui è il coso questo è quello del supermercato che ha detto che non abbiamo telecamere che ripendano da sotto però scusami se lei ha fatto un video su tiktok basterebbe far vedere il video di dove ha visto sto infatti ha detto la prossima volta l'avranno tolta se ammetti che avevano torto l'hanno tolta ma sono stupidi vabbè cioè magari sono stupidi però può essere il serpente sbuca dal finestrino dell'auto striscia sullo sportello si butta all'interno il video è incredibile è incredibile perché è successo in Italia che è una cosa abbastanza e tra l'altro chiaramente la Calabria questa qui è dietro no o Puglia o Calabria i serpenti ci sono no però c'è scritto che lui ha detto che lui ha un'azienda il Frosinone ah no a cada a Nanni a Nanni lo cazzo sta e lui c'è scritto che ha un'azienda Frosinone e magari l'intorno non lo so io non sono esperto i serpenti era una piperina cos'era una ma una biscia sarà non lo so comunque vabbè dicono che sarà biscia ma non è ancora stato identificato vabbè si era lì sul finestrino e poi ha fatto poff stava una biscia a sentire degli audio ah ho finito di scaricare Striden ma non stavo laggando strano anch'io devo scaricare cazzarola ma non è strano che non mi ha laggato eh sì forse ambulanza a sirene spiegate con influencer e neomelodici a bordo per inaugurare un negozio così i clan comandavano all'ospedale di Napoli ah i clan quindi c'è della Camorra perché credo sia veramente tanto illegale usare un'ambulanza così dicono il clan di Camorra continui nelle dinamiche dell'ospedale vabbè ma perché avete messo questa notizia della Camorra infatti abbastanza la Camorra è ovvio che è una notizia di cronaca normale perché Papa Francesco le omelie non dovrebbero durare perché per Papa Francesco le omelie non dovrebbero durare più di otto minuti come si chiama ah dice che la gente si addormenta l'ho visto questo dice sono troppo noiose poi la gente si addormenta guarda come si chiama ciao in questo momento fammi vedere Harry Potter e il ciao lice di fuoco vabbè ormai non ce la fa più comunque cioè io li voglio bene perché le sta trovando tutte però è incredibile questa cosa un grande questo è una ciao con la mano invece ciao con la mano comunque si ha detto che la gente si addormenta quindi non deve durare più di otto minuti anche più di due a volte parlano molto e non capisci di cosa stanno parlando qui c'ha ragione vabbè oh qua c'ha ragione il buon fine non esiste maiali pelosi reclutati come tosa erba viventi per scavare la più rara farfalla del regno unito per salvare per salvare la più rara farfalla del regno unito come è possibile che uno che mangia l'erba salvi una farfalla ah per ricreare l'habitat esatto alla riposizione della fabriciana adippe 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 non so una meravigliosa farfalla arancione che ha delle piccole macchie nere sulla parte superiore delle ali la cui popolazione si è dimezzata negli ultimi 50 anni nel paese che bella che è ci farei un pokemon è una farfalla normalissima no vabbè è normalissima le palle guarda quanto è bella tutta arancione con le macchie nere bellissima pare che credo sia più grande del normale perché guarda il fiore lì è bella grande comunque ci sono già 74 farfalla in pokemon come ci sono già 75 miliardi di cani di gatti e di altre cose solo che ogni generazione ne devi fare uno nuovo gli animali sono finite ormai devi per forza riproporre vabbè comunque la nave fatiscente che doveva ospitare 2600 agenti per il g7 affittata per 6 milioni di euro ma ora il viminale la sgombra via in 1800 abbiamo già letto no ma cosa c'è di particolare però che hanno che hanno preso una nave una nave in rovina e poi hanno dovuto mandar via tutti quindi figurati erano antiche navi per gli schiavi ma poi l'articolo non scorre si si non è scorre vabbè no dice che erano cioè allora non erano antiche non è una parola che rispecchia il suo significato no sarebbe da distruggere questa nave c'è da buttare giù rifarla completamente si c'è scritto che le cose ah ecco non è che era una nave un'antica nave per gli schiavi hanno detto che erano tenuti in maniera igienico-sanitarie al livello di quelle degli schiavi dell'antichità non lo so c'è nella c'è una foto c'è tutta l'acqua nella stanza tutto il piscio tutto il smerdato con un asciugamano marrone quindi non so poi vabbè è perché c'è scritto c'erano 6 milioni di euro così le pozze causate perché gli impianti perdevano tutto e oltre ai condizionatori guasti quindi fuoriusciva tutto da tutte le parti sia dalle tubature che da condizionatori eccetera questo è il gesto dell'asciugamano marrone sì c'è questo qui è il gesto della cacca non com'era così non mi ricordo com'è il gesto io non so nemmeno di cosa parlando nel linguaggio dei segni però questo invece è l'asciugamano cacato non lo so chiederemo poi l'asciugamano marrone ha anche detto itmo lì amici se lo chiudi sì beh fai la busta devo fare assolutamente un'altra serie di pokemon se devo cercare qualche gioco particolare in realtà smeraldo non l'abbiamo mai fatto noi abbiamo fatto cioè abbiamo iniziato la random su smeraldo ma non abbiamo mai fatto la serie su smeraldo vabbè busta cacca è diventato ormai un pokemon leggendario ti rendi conto ma nel momento non mai avrei pensato che sarebbe durato 6-7 anni dopo talmente tanto banale busta cacca è veramente che ormai è il nome ufficiale del pokemon ma te l'ho detto sono andato a vedere le playlist di quella serie ma c'è dei numeri del primo canale io non capisco come sia possibile cioè veramente sono contentissimo per carità di dio lo rifaremo indubbiamente ci sarà il nostro Esprit io non richiamo io non rinomino mai pokemon però Esprit e eventualmente qualche chicca tipo busta cacca si può fare eh Buznal c'era proprio effettivamente chi è? non mi ricordo vabbè ma poi Brodhoff era un bambino probabilmente quando ho fatto quella serie sicuramente vabbè scala un grattacielo senza protezioni bloccato al venticinquesimo piano e arrestato godo ragazzi i coglioni che scalano i i palazzi andate a fare in culo ah era il personaggio era il tuo pupino Buznal porco Giuda è vero è assurdo che non mi ricordo una sega di robe mie voi si bestia il ragazzo è uscita la notizia di Antonella Clerici che gli hanno asportato le ovaie d'urgenza mi è uscita adesso su TG.com non volevo dirla è la prova del cuoco eh non c'è più tanto la prova lei fa un altro programma adesso non è vero è similissimo come si chiama scusa non mi ricordo però è non è la prova del cuoco si parla di cibo c'è a Nina c'è le cose alla fine fa quello che gli piaceva a lei no a Nina forse non c'è più è venuta come ospite ogni tanto comunque il ragazzo che usava il lampeggiante blu per consegnare prima le pizze non si può eh no non si può direi proprio di no in caso se vuoi mettere la luce non so neanche se cioè devi comunque dichiarare qualcosa forse si però le blu non sono solo quelle le blu penso non puoi neanche avere la macchina blu di quel blu si ma anzi non solo macchina proprio in generale il blu della polizia credo anche quella di carabinieri comunque blu vero si ricordate anche del sondaggio di Sarizar vabbè allora scattata la denuncia per possesso di segni distintivi contraffatti ok oltre alla segnalazione con ritiro delle patente alla prefettura e gli hanno pure contestato il possesso di alcuni grammi di acidi già che c'erano vabbè si non so del colore esclusivo si i colori quel blu lì della polizia o dei carabinieri o entrambi non mi ricordo non lo puoi usare se vuoi fare un insegna non puoi usare quel blu non puoi usare comunque stop alla rassegna stonca direi di passare grazie steppet grazie steppet direi di passare alla rassegna booba no non era la rassegna videoludica giallo dopo ti leggo tranquillo oh hanno provato metal slug tactic che interessa solo a me e probabilmente ai creatori vediamo un attimo se mi carica chiaramente allora vediamo cosa hanno detto quanto lungo l'articolo oh non arrivo allora oddio hanno tre certezze e tre dubbi nei dubbi visivamente ai suoi inevitabili limiti la quantità di variabili all'inizio confonde e qualche piccolo glitch da sistemare questi sono i contro nelle certezze hanno messo uno strategico di spessore ottima trasposizione grafica e strutturale elementi roguelike accattivanti e ben bilanciati sono contento io questo lo gioco sicuro questo lo voglio giocare io un godo dicono che anche la grafica era assolutamente fedele alla pixel art originale tanto gli ezer dicono che lego horizon non sarà esclusiva ps5 e pc si perché esce anche su switch ma non su xbox beh su switch me l'aspettavo è un gioco da switch beh comunque è un gioco horizon ma hanno provato astrobot già su switch non so quanto giri bene comunque ci sono altri giochi lego non avranno questi effetti magari no sicuramente l'onestione sarà molto più blando grazie steppet per i centobittini oltre alla donazione grazie mille comunque si hanno provato astrobot di già beh che esce tra poco effettivamente allora hanno detto di astrobot nei dubbi riuscirà a mantenere questo livello di varietà e come sarà accolto dal pubblico di playstation non so perché questa domanda penso bene però si è un dubbio no no è un dubbio infatti sono dubbi no hanno detto riuscirà a mantenere questo livello di varietà di astrobot perché c'è il provato e poi nelle certezze hanno messo quattro certezze e due dubbi sono quindi direi che gli è piaciuto bello da vedere fluido da giocare sempre divertente tantissimi easter egg dedicate all'intero mondo dei videogiochi credo intero più che quello di playstation introduce costantemente nuove brillanti meccaniche di gioco questo si vedeva nel video che c'era un sacco di cose da fare e come al solito il dual sense viene spinto al massimo io sono budereccio con questo gioco potrebbe essere il primo gioco next gen per quanto riguarda la fisica e l'utilizzo del pad sì però per altre cose non lo so non lo so anche perché quello next gen per me l'hanno già fatto è da recette in clang in realtà hanno dimostrato che non è vero sì poi c'è stato anche Alan Wake però sono altri tipi di grafiche è difficile anche metterli di fianco no no ma dico per recette in clang per le tecnologie che ha usato e robe del genere ma poi hanno dimostrato che era tutta fuffa quella di cui ha parlato Sony perché girava ugualmente anche senza ssd che l'ha menata tanto e tutte queste robe qua poi comunque questo qua sarà mio al day one questo lo voglio giocare da tutti i costi proprio questo sembra bellino questo qui mi sa che returna non l'ho mai sentito nei giochi in cui cioè io ho sempre ma anche io perché l'ho provato l'ho giocato tutto recette in clang che sapevo per gli effetti però non è che era una merda era bello spinto anche quello però diciamo che returna mi fa ribrezzo però capisco che next gen si una la way cioè la next gen la stiamo vedendo dopo tre tre anni quattro anni e ormai quasi quattro sì poi abbiamo vabbè c'è un vari speciali hanno provato anche fallout 76 vabbè skyline c'è anche il provato di lego ryzen che però vabbè sono i pro dei soliti giochi lego graficamente molto spinto dicono che ci sta l'umorismo lego fa sempre via da tutte le età e un buon punto di ingresso sul mondo di horizon che vabbè non è che c'è bisogno di un punto di ingresso di introduci cosa c'è cosa c'è nel mondo cioè i robottoni sì sì ma non è che non è warhammer che è difficile sono due giochi horizon forse è finto un po' semplice e immediato niente versione ps4 perché sì anche quello lì effettivamente è quello l'unica dove potevano effettivamente farla l'unica volta in cui potevano farla non lo fanno vabbè poi c'è anche l'anteprima di monster hunter wilds che il titolo è talmente bello che non sembra vero dicono ha solo un dubbio talmente carico e dinamico che rischia di essere molto pesante bello era abbastanza anche il world quindi ci può stare nelle certezze ce ne sono un sacco che parlano di un mondo enorme splendido pieno di vita in continua trasformazione anche perché questo qui sarà open world e non più diviso in mappe con caricamenti insomma roba del genere sarà open e dovrà andare nei punti dove ci sono tali mostri ed è per monster hunter è figo l'esperienza è completamente fluida priva di caricamenti e momenti morti appunto tutti gli elementi chiave dei capitoli passati sono stati evoluti e potenziati la caccia è come un film d'azione in piano sequenza in cui succede di tutto artisticamente eccelso e graficamente sorprendente io dobbiamo farci ragazzi questi bastardi mi devo far aspettare un anno pesante come gioco si intende è molto carico e dinamico di roba che succede tempesti fulmini un sacco di roba graficamente figo quindi può essere che sarà pesantone va bene comunque stavo leggendo che è uscita la versione quella migliorata di shimegami 106 5 gli hanno dato 9 quelli di multiplayer hanno detto che è bellissima la versione migliore l'hanno alloggiato però uno dei punti contro è una cosa con cui concordo anch'io la politica di Atlus sta cominciando a diventare frustrante e sono d'accordo perché tutte le volte devono fare l'edizione definitiva che poi è quella per davvero perfetta che merita 9-10 e però tu ogni volta ti sei comprato anche l'altra e che palle cioè a sto punto visto che sapete lavorare sapete fare un gioco da 9-10 e fate direttamente il gioco da 9-10 non è che ogni volta devo aspettare due anni che esce quella figa palla subito non che mi fai spendere soldi di volte capisco che te ti fai i saccocci pieni di soldi però è un modo veramente brutto comunque si gli ha dato 9 ha detto che è fighissimo cioè già due anni fa gli piaceva tantissimo adesso tutto quello che non andava l'hanno sistemato hanno detto nei contro che ovviamente una parte della nuova campagna è identica perché comunque è un po' come Persona 5 quella Definity comunque ci sono delle cose uguali delle cose nuove poi hanno detto semplicemente che alcune aggiunte come i cobi dei demoni e la vista aerea sono trascurabili le hanno aggiunte però quelle cose lì potevano anche evitarle però gli hanno dato 9 visto anche nei commenti alla gente è piaciuto un botto quindi credo sia molto 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 valido solo che sì è una rottura di palle ogni volta X Defiance si aggiorna per la stagione 1 e blocca una fastidio da strategia usata dai giocatori ossia quella della gente che salta come una stronza ok sarà messo come Fortnite che non puoi saltare continuamente o la famina non puoi già saltare continuamente su Defiance però la gente lo faceva comunque ma ha messo ha reso molto meno utile continuare a saltare ha aggiunto una nuova penalità alla mira per chi preme a ripetizione il pulsante di salto ah magari gli sbarre l'accovacciamento vabbè ci sta quindi magari a proposito di aggiornamento è uscita una patch di 20 giga di Fortnite mi raccomando fatela perché nella 12 ore c'è quindi sì mi raccomando andatevi a vedere la scaletta della 12 ore perché sarà la 12 ore in cui giocheremo con voi amici mi raccomando in caso non si mette la schermo la scaletta c'è scritta la data nella scaletta ma mi copre tutta la chat no di fianco di lato eh no magari sotto l'orologio sotto l'orologio magari no ma la metto solo nella 12 ore quella la scaletta non l'ho mai messa prima e no è perché devono scaricare i giochi eh lo so l'ho capito ma mi copre la chat ma non è vero lì di fianco tanto la chat non ci sta è più grande la scaletta me ne taglia un pezzo comunque la trovate su discord perché ripeto i giochi da scaricare sono Fall Guys Golf Future Friends Fortnite che è quello grosso e basta gli altri c'è Crab Game pesa un cazzo Rumble Club non so ma questo lo facciamo io farei quello della della IA sì sì l'abbiamo detto che poi durante in caso se sono giochi che si fanno al volo si fanno al volo Party Animals no ragazzi è bellissimo ma in live non va tanto bene a me piace un sacco Party Animals però non ultimamente non ha avuto molto era partito benissimo sia al lato nostro che al lato vostro ultimamente al lato vostro era un po' a me piace ti ripeto a me piace da morire ci diverto come un bambino però dobbiamo anche vedere cosa vi piace a voi giustamente quindi da uscire la patch di Party Animals con roba nuova poi sicuramente lo riporteremo che a me veramente piace a me diverte tantissimo Party Animals ma veramente tanto però immagino da guardare dove un po' sembra la stessa roba no ma il fatto non è neanche da guardare che proprio non entrava neanche tanta gente a giocare con noi quindi o lo giochiamo tra di noi invece ci veniamo tra di noi quello sarebbe veramente da mettere sul Game Pass doveva essersi o quantomeno lo metteremo non l'ha mai messo ma anche secondo me Mary solo che il fatto che magari anche la gente perché in pasta non andava male in pasta non andava male per niente era proprio il live e non entrava gente c'è il fatto che se non vogliamo giocare con voi e nessuno entra non c'ha senso facciamo un'altra cosa dove magari entrate più persone vabbè ma continua a suonare e Diodi eh fai pure vabbè vabbè speriamo bene per X Defiant che hanno rotto le palle poi Prince of First alle sabbe del tempo vuole dare più spazio a Phara modificandola a quanto basta va bene vedremo vedremo un po' previsto per il 2026 tanto Martin George Martin svela che una serie prequel del Trono di Spade è tornata in produzione presso HBO ma non sbaglio o si sapeva già scusate io non mi ricordo di questa cosa non è che seguo le notizie ma io mi ricordo di un'altra serie di Game of Thrones che era stata annunciata non sbaglio era stata cancellata ma io me la ricordo recentemente forse parlando di quella di Snow ma i libri l'ha detto i libri l'ha detto col cazzo che li faccio ma hanno rotto i coglioni ma hanno rotto i coglioni tutta la fanbase di fare i pppp non li faccio più ha detto quindi i cazzi di chi li legge allora poi basta vedi c'è l'huk vediamo vado subito allora fortnite offline il 13 giugno tutti i dettagli sulla manutenzione che porterai metallica anche i brani eccetera il palco abbiamo poi summer game fest ritorna nel 2025 siamo molto felici di annunciare che la summer game fest tornerà a los angeles il prossimo giugno 2025 fiancata da play days bla 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 hanno ripetuto ha rimesso un articolo che dice che appunto avrà 80 livelli poco più di 80 livelli astrobot stanno arrivando poche esclusive su ps5 un noto giornalista jason schreiner spiega il perché per quel che riguarda i titoli cancellati c'è ne sostiene che fossero per lo più giochi a sviluppo continuo una tipologia di prodotto che negli ultimi tempi non viene vista di buon occhio e quindi sony sta fortemente mi ho dimenticato stavo morendo di caldo dico ma perché non avevo acceso premium apple sorpassa microsoft dopo la wwdc e di nuovo l'azienda di maggior valore al mondo quindi l'ha risuperato judlo doveva essere superman in un film scritto da jj abrams vedi anche il costume disse in intervista poi c'è tutta l'intervista particolare nella nostra galassia potrebbe non esserci nessuno siamo l'unica specie un nuovo studio che non so quanto uno studio possa dirlo in maniera assoluta però vabbè che esamina il paradosso di fermi utilizzando l'equazione di drake che ha proposto una soluzione scomoda forse siamo soli nella galassia il paradosso di fermi solleva la questione del perché data l'immensità dell'universo e la probabilità di vita altrove nessuna civiltalina ci abbia mai contattato per le distanze appunto si sa non è che c'è un motivo se molti giochi su steam non sono in italiano semplice ci sono pochi utenti e c'è un grafico che fa vedere le varie lingue e noi siamo effettivamente aspetta neanche ci vedo io guarda non ci siamo nemmeno nella tabella non ci siamo nella tabella quindi noi siamo il 4% di other siamo dentro il 4% esatto siamo dentro il 4% di altri addirittura tipo la turchia c'ha 1.82 appare nel grafico noi non appariamo nel grafico appare tai con 0.78 e noi non ci siamo c'è la polonia la polonia non così tanto 1.89 quelli più grossi sono vabbè ovviamente il cinese semplificato e il cinese tradizionale che sono praticamente metà spicchio poi c'è portoghese quasi 3 tai 0.78 spanish o castigliano 5.25 russia 7 anzi 8 quasi e poi il coreano 2.34 l'inglese è 35% è l'altro spicchio praticamente sì fai conto che metà spicchio sono cinese e inghilterra quasi tutto e poi c'è l'altra parte piccolina che sono tutti gli altri europei giapponesi quindi noi i turchi sono comunque più di noi per dire il silksong è italiano è australiano il team di silksong germania tra l'altro 3.41 e francia 2.55 e poi abbiamo Elder Ring sì Elder Ring mi azzà non mi fa leggere perché se vado giù non mi fa vedere le cose ha fatto un nuovo traguardo di vendita tra l'altro Elder Ring 25 milioni ha raggiunto sì comunque è scritto rispetto a chi usa le guide ma non è così che dice ok rispetto per tutti però in teoria i giochi li ho pensati senza che la gente guardi guide ma anzi è giusto che si perda e tutto le altre cose poi ha detto questo non lui questo lavoro viene pagato 100.000 dollari all'anno per scrivere biglietti d'invito strana come è formulata questo titolo però il capo calligrafo va bene Ubisoft ha un botto di giochi in uscita entro tre anni ma non ne ha mostrato nemmeno uno c'è scritto quindi Assassin's Creed e Star Wars sono quelli più famosi ma poi ce ne sono altri meno male entro tre anni è inutile presentarlo adesso se c'è tra tre anni sì è fatto bene a non farlo possiamo andare alla rastanza ci avevo anche aggiunto un attimo due notizie vabbè una è Dark Souls Redemption che è il manga di Dark Souls è uscito è uscito Final Fantasy VII Remake il romanzo Trace of Two O Two Past sono arrivati in Italia quindi in caso si sono usciti già sì allora il romanzo di Final Fantasy sembra una merdaccia sinceramente è una roba un po' un po' ma era bellissimo mi sembrava al massimo quello di Dark Souls guarda ha intrigato ha intrigato quasi anche me anche a 7 euro e ormai moro così è mortacci l'oro però vedremo cosa ha detto Umbertone prima che l'ho visto scrivere di pagare i giochi agli italiani sta cosa non piace ah per parlare di così in Giappone queste cose tirano tanto ma sì abbastanza no romanzo scusate poi cos'è una graphic novel il volume 1 di sì quello di Dark Souls sì 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 l'altro è un romanzo quello di Final Fantasy ve lo metto qui in santi in caso se volete vedete se siete interessati che dovrebbe essere cioè non si deve parlare bene è quello serio insomma quello sì allora in realtà recensioni sul volume non ne ho lette io ancora diciamo che spero sia figo spero sia figo però boh tra l'altro dicono che è una storia originale e inedita del mondo grazie Hyper Vincent non è come quello di Elder Ring che è tutto lullo scemo quello lì è proprio diverso dovrebbe essere una roba abbastanza seria vabbè invece l'altra era Valve che è stata citata in giudizio per 764 milioni nel Regno Unito per colpa dei prezzi a quanto pare ok per far pagare cifre troppo elevate un totale di 14 milioni di persone nel Regno Unito la fa pagare troppo apre le commissioni boh vabbè sono cose che non noi capisco neanche troppo allora beh passiamo all'almanacchio nel 313 viene prolungato l'editto di Milano con cui le due parti dell'impero romano quell'occidente quell'oriente adottano una politica religiosa comune l'editto riconosce la libertà di culto nell'impero e mette fino alla persecuzione dei cristiani 1886 il re Ludovico II di Wittelsbach Wittelsbach non so come si dice e il suo dottore dottor Gooden vengono ritrovati annegati nel lago di Stamberg questo evento genera perplessità nelle persone del tempo sulle effettive capacità natatorie del re 1946 in seguito al referendum del 2 giugno il re Umberto II lascia il paese il suo regno è durato poco più di 30 giorni per questo viene chiamato il re di maggio che non è come quello del ring è tratto molto seriamente i disegni sono molto fighi e ne vale la pena posso dirvi questo perché l'ho sfogliato mentre l'ho visto all'Etna Comic va bene nel 1956 Real Madrid vince la prima coppa dei campioni giocata al Parc dei Princes di Parigi battendo lo Stad Reim per 4 a 3 2018 le autorità tedesche multano per frode la Volkswagen dopo aver scoperto che le auto diesel avevano una centralina con un software che aggirava i test anti-inquinamento statunitense la multa da un miliardo di euro si aggiunge a quella inquinata dagli Stati Uniti di 4 miliardi non allenava cioè allenava in generale forse sì no non è vero nel 1956 non credo però abbiamo poi nati oggi Emanuel Milinco che è l'arcivescovo cattolico che fa 94 anni nel 1957 nasceva Zarrillo cantautore insomma 5 giorni in una rosa blu che fa 67 anni in età di mio papà nel 1974 Steveaux Stantman non è statunitense tra l'altro britannico Stantman assurdo fuori testa 1981 fa 43 anni anche Chris Evans Tore Fantastic 4 Avengers eccetera eccetera 1986 Mary Kate ed Ashley Olsen che adesso sono degli stilisti però erano attrici 1991 invece nasce Barbara Bonansi calciatrice italiana non la conosco purtroppo Bonansia allora sarà non me la ricordo visivamente non ce l'ho visivamente Proverbio del 13 giugno 2024 Dio li fai poi li accoppia c'è scritto li appaia ma è quello diffuso anche nella forma di li fa poi li accoppia esatto analogalmente a quanto espresso dal proverbio chi si somiglia si piglia in realtà c'è pure il proverbio al contrario cioè che gli opposti si attraggono in realtà c'è in entrambi i casi il proverbio però vabbè poi è tutto lungo deriva addirittura dal Montelupo si vede capraia Dio li fa e poi li appaia era anche in un altro modo e il nazionale Bonansia purtroppo non ho mai visto la nazionale ancora ho visto qualche cosa ma non ricordo i nomi ovviamente poi le giornate nazionali e non giornata nazionale della macchina da cucire la festa di Sant'Antonio la giornata internazionale per la sensibilizzazione riguardo all'albinismo giornata internazionale del lancio dell'ascia giornata nazionale del diserbare il proprio giardino e giornata mondiale di softball del softball curiosità nel 2009 Stephen Hawking organizzò questa non la ricordo questa la so nel 2009 Stephen Hawking organizzò un ricevimento per viaggiatori nel tempo per assicurarsi che solo i viaggiatori del tempo partecipassero pubblicò gli inviti solo dopo che il ricevimento si era concluso e ovviamente non partecipò a nessuno cioè lui disse per vedere se esisteva siccome lui era uno scienziato famoso lo sapranno se sono viaggiatori del tempo va bene possiamo si sono fatti sgamare può darsi magari sono le leggi del viaggio nel tempo aspetta un attimo sarebbe stato incredibile però arrivasse qualcuno andiamo alla rassegna si sarebbe stato fighissimo o magari uno che sbaglia abbastanza infatti è venuto in mente a Stephen Hawking abbiamo aspetta che refresho per vedere se c'è qualche altra notizia all'ultimo si ce n'è una Chiara Ferragni in splendida forma annuncia la vera me stessa è tornata poi abbiamo divorzio sempre la cosa divorzio imminente da J.Lo gli amici di Man Affleck temono per la sua sobrietà ogni giorno dicono una cosa diversa su questa cosa qui poi abbiamo Fiera Milano Live dagli Evanescence a Amy Schilla pensate che lavoro un'estate di musica e svago vabbè questo è più per annunciare il fatto che c'era Fiera Milano Live poi abbiamo Mahmood dall'assalto all'estate con Ratatà ho già paura perché quando fa sti pezzi mi fa cagare Mahmood a me proprio non mi piace nemmeno un po' quando fa sti roba estiva poi abbiamo i due momenti a Marcordi il primo è Simone Barbato mima gli animali a Z-League 2010 era quello la tutina che faceva Mimo no l'anteprima è bella ma vediamo e poi abbiamo Giovanotti canta Piove a vota la voce del 94 prima di diventare hippie forse lo era già il 13 giugno di 30 anni fa usciva il singolo trattato all'album Lorenzo del 94 non sto scaricando niente ragazzi stavo scaricando prima e non bufferavo mi sono mai a scaricare ah ok perché prima stavo lagando non mi avete detto cioè stavo scaricando e non avete detto niente comunque basta andiamo al Guess the Game Guess the Game questo c'è un coso di sabbia Prince of Persia quello che ho giocato io no però non c'era la grafica pixel io dico Prince of una Aladdin perché quella cosa di sopra mi sembra una roba di Aladdin bello Aladdin bello Aladdin vai con due L Aladdin con due D con due D Disney's Aladdin sì a quello che bellino che anno è 93 eh sì è la mia taccia sto gioco va bene clip termo less silenzio bravi costruttore di pube cos'è questo lancio di frecce non è Minecraft allora guarda la nostra città come già si sta erregendo eh forse Age of Empire sembrano i rumori di Age of Empire esatto un pochino mi manca facevo cagare e mi dovevate ogni volta supportare fare una partita a me va benissimo quando volete provarli sono sempre no faccio cagare non mi ricordo già più niente ragazzi poi mi dovete rimparare però aspettiamo un nuovo gioco strategico mi viene l'ansia è che un nuovo gioco strategico non è Age of Empire però stai giocando al 2 in questo preciso momento Ricky sei proprio anziano sarebbe figo fare una sfida su Civilization no Civilization non mi piace per niente a me a me piace giochiamo ma non so più giocarci ormai ogni roba è così a me non piace ma è Pokedle Pokedle roba rapida che per non aprire i milioni di pote questo è adesso ti sento proprio basso basso anche io quasi non capisco cosa dici questo non è Psyda questo è Metapod no allora tipo 2 nessuno fase 1 sì piccolo eh proviamo un altro a caso non è che ci abbia molto un altro sì aspetta proviamo Charmander tanto uguale Charmander forse più alto no non credo no più basso proviamo un un Ratata Krabby proviamo Krabby come cazzo è scritto non è Krabby con la K e proviamo Rattata dai a parte che è davvero un arancione oddio è Rattata per davvero la potenza del mondo ragazzi come la canzone di Mahmood il capo senza senso è Bulbasaur non l'avevo ancora visto ah scusami Bulbino ah chissà cos'è forse Charmander vediamo non lo so di che sette è caruccio ma ne hanno fatti di più bella è carino c'erano queste carte qua vedi scrivevano sempre il livello poi c'era quel periodo dove scrivevano il livello sopra nel nome quando God si infuria non è God la circolazione sanguigna si fa intensa e robustendo i suoi muscoli allo stesso tempo tuttavia perde anche la sua lucidità in presenza primate lo volevo dire subito ma ho aspettato siluetta far hero no eh potrebbe forse far sì 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 hai ragione tu hai ragione i più forti del mondo pazzesco ragazzi tocca fare il lold ma non so le cose di lold all'aprire allora ragazzi direi che fermo qui il mondo moro e succhia dai per provare allora intanto vediamo se riesco a farti vedere le talline Nati ma che devo mettere il mio tradicolo tu fai le tue cose io intanto a farti